Prende il avvia sabato sera a Campo d'Autore, un festival del libro d'autore che l'amministrazione e in particolare il vice sindaco Lucia Soppelza hanno organizzato come segnale di una rinascita del paese. È stata una sfida che abbiamo colto durante i mesi che hanno preceduto l'avvio della stagione turistica, oltre all'impegno importante che il Comune ha messo insieme ai cittadini per la ricostruzione, si è cercato di pensare anche all'aspetto culturale e un po' di risveglio del territorio sotto questo altro importante profilo. Tutto è stato reso possibile grazie a una collaborazione condivisa con le associazioni di categoria, con operatori del settore dell'editoria che ci hanno permesso di entrare in contatto con delle penne che ormai sono di fama nazionale e che quindi si stanno affermando nel loro settore. Sono tutti premi finalisti, premio Bancarella, premio Strega 2012, quindi potrebbero anche essere poi alla fine di questa stagione estiva i veri premiati quest'anno. Partecipano con entusiasmo, non soltanto per darci un sostegno fattivo a ripartire, ma anche perché sono proprio felici di conoscere l'Elba e di confrontarsi con questo pubblico che è quello che ci segue ormai da tantissimi anni sul nostro territorio, con il turismo che ci contraddistingue. Il primo appuntamento con la rassegna è appunto quello di sabato sera in piazza Caponnetto con Marcello Simoni, che presenta Il mercante di libri maledetti, edito da Newton Compton, finalista al premio Bancarella 2012. A presentare lo scrittore il giornalista Fabrizio Prianti. Prossimi appuntamenti il 3 luglio con Davide Enia, il suo Così in terra, e il 7 luglio con il giornalista e scrittore Francesco Pira, che presenta la Net Comunicazione Politica. Tutti gli incontri sono organizzati nel centro storico del paese.